Cari spettatori, per il Cinevirus quotidiano, un film da raccontare e immaginare, oggi parliamo di Io la conoscevo bene. È un film del 1965, siamo proprio alla metà degli anni 60. È diretto da Antonio Pietrangeli, un regista che sarebbe morto pochi anni dopo ma che aveva già lasciato una traccia importante nel cinema italiano con Ado alle compagne, Lo scapolo, Il magnifico Cornuto. Di che cosa parla? Io la conoscevo bene. Parla dei sogni e delle illusioni di quegli anni. Come? Con un personaggio, Adriana, interpretato da Stefania Sandrelli, l'avevamo già vista soprattutto nei film di Germi, Divorzi all'italiana per dirne uno, Adriana arriva a Roma dalla provincia desiderosa di fortuna, cerca una strada nella vita, è molto fragile, molto aperta, molto ingenua e si fida, si affida ad una galleria di personaggi maschili che in un modo o nell'altro si approfittano di lei e il film racconta poi il cinismo, l'indifferenza e anche la violenza del mondo dello spettacolo nel quale Adriana cerca di entrare. Una scena che rimane memorabile di quel film è il provino che le viene fatto e che viene montato in un modo da sbeffeggiarla e da portarla alla definitiva delusione. È un film che ha un cast importante con Nino Manfredi, con Enrico Maria Salerno, con Mario Adorf e anche la musica è protagonista di questo film. Adriana sente continuamente queste canzoni degli anni 60 che danno un po' questa euforia in contrasto proprio con il versante invece amaro del film, da Eclisse Twiste, di Mina, Roberta, di Peppino Di Capri. Infine una notazione locale. Questo film è stato girato anche ad Orvieto, in particolare nel teatro Mancinelli, alla stazione e sul sagrato del Duomo. Io la conoscevo bene, 1965, Antonio Pietrangeli, Stefania Sandrelli. Un film da raccontare e immaginare. Arrivederci.